Il cardinale Gerard Lacroix, arcivescovo di Quebec. La sua esperienza pastorale comprende non soltanto l'America settentrionale, ma anche l'America del Sud. Egli, infatti, ha lavorato come missionario per lunghi anni in Colombia. La sua parrocchia era grandissima e lui doveva visitare le sue chiese, le sue comunità, anche usando i muli perché i sentieri nelle montagne non permettevano nemmeno il traffico con le macchine. Eppure, anche quando non avevano l'elettricità, con candele accese si sono radunati e hanno pregato insieme nella chiesa. Per la comunità il momento eucaristico era veramente fonte di forza, fonte di gioia e fonte di energia per tutta la settimana. Quebec è stato anche il luogo dove si celebrava una volta un congresso eucaristico internazionale. I frutti pastorali di questo congresso sono tuttora presenti in quella diocesi e il cardinale Lacroix può rendere testimonianza di tutta questa ricchezza, malgrado le difficoltà, malgrado i fenomeni della secolarizzazione che sono più rappresentanti nel nostro mondo. Chers fratelli e sorsi, da la foi, io vi saluto chaleureusement da la belle ville di Quebec, al Canada. In 2008 abbiamo avuto un congresso eucaristico dell'eucaristico internazionale che ha portato molti fruiti. E noi ci prepariamo per il prossimo congresso che sarà a Budapest, in Hongria. Il deve avere avuto in settembre di settembre ma ha dovuto essere riportato in settembre 2021 a causa della pandemia del Covid-19 che noi traversiamo. Sì, questa pandemia ha lasciato di persone con tutti gli altri di riflessioni, di preoccupi, di paure, di angosti. Ci sono più giù di ciò, di noi approcciare di signore. Lui che dice sempre «C'è io, non ui ne ha paura. Faites confio, io sono lì». C'è Gesù che dice anche a sui discopi proprio dopo di essere a su Perni. «E io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». L'Eucharistie è questa presenza del Signore che fa parte con noi. Al corso dei ultimi mesi mesi, ho lunguamente riflesso e medito questi mots di Gesù in l'Evangile. E è un grande riconforto di sapere che noi non siamo soli. Un congresso eucharistico permette di noi rassembler, di approfondire la nostra voia, per rinunciare la gioia di l'Evangile. L'Evangile si è rendo conto al corso dei ultimi mesi mesi, che non possiamo non vivere senza l'Eucharistia. Non questa nourrita di la parola di Dio, di la comunione eucharistica, ma anche di questa comunione fraternale che ci rassembla. Non possiamo non avare nella voia e essere dei veri disciples missionari al corso del mondo. E' per il che questo è che questa pandemia ci ha lasciato un'invito a avanciare nella voia, nella confianza e ci rinunciare il cuore, noi rinunciare il cuore per questa source che è sicura che è quella di Gesù, presente nell'Eucharistia. Lui che ci ha amato, che ci ha guidato a la comunione profonda, con il Perto e l'Espirito, e tra noi. Lui che bàtiva l'unità. Fratelli e sœur, io ho troppo di te rinunciare in settembre 2021 a Budapest. Ce sarà un rassemblement universel che ci rinunciare e ci rinunciare, e ci rinunciare questa gioia di la presenza del Signore in noi, in gli altri e al cuore di nostro mondo, affinando che ci rinunciare i nostri fratelli e sœur, affinando che ci sia come Gesù ci ha invitato a passare sull'altra rive e andare a la rinunciare di questi e celli che non conoscono ancora la gioia di essere amati di Dio, la gioia di fare route come disciple con il Cristo. Che il Signore vi benissi e a molto presto a Budapest. Grazie a tutti. Grazie a tutti.